Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per trasporto eccezionale tra Via 1 Variante e Sassomarconi in direzione nord. Carreggiata opposta, quindi verso sud, rallentamenti per veicolo fermo o in avaria tra Sassomarconi e Via 1 Variante. Possibili disagi inoltre per incidente in direzione Roma tra Firenze Scandicce e Firenze Inpruneta. Era 12 code a tratti per traffico tra Carrara e Vivio a 12 e a 15 per chi viaggia verso Genova. Siamo al traffico urbano di Firenze, nuovamente chiusa via Bolognese nel tratto tra Via Salviati e Via di Carreggi per consentire la riparazione di un tubo dell'acqua. La riapertura è prevista per lunedì 12 settembre. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!